ma ci viene un po una punta di malentuconia annunciare la chiusura della storica merceria ciccini o ciccini in riva vena al civico 1168 nota tutti come la ciccini la fiat della ciccini cristina donaggio ultima custode di questa tradizione ha preso la difficile decisione di concludere l'attività entro l'anno abbassando definitivamente le sare cinesche il 31 dicembre scorso la scelta di intraprendere un nuovo percorso professionale testimonia le sfide che le attività commerciali devono affrontare in tempi recenti questo annuncio sebbene porti con sé una nota di tristezza ci ricorda anche il cuore pulsante dal nostro centro storico la merceria ciccini ha una storica una storia che si intreccia con la storia stessa di riva vena fondata nel 1956 dalla nonna olga e l'attività attraversato diverse fasi partendo da un modesto banchetto con tenda per poi volversi in un casottino mobile e infine culminare con l'apertura del negozio in riva cristina donaggio sottolinea che la vera ciccini era la bisnona paterna distinguendosi dalla madre nata a cremona e cresciuta a bologna mentre la merceria ciccini cede il passo a nuove prospettive cristina ci ricorda che molte attività caratteristiche del nostro centro storico resistono continuando a servire la comunità con dedizione hai già fatto il cambio gomme per i tuoi pneumatici invernali o per quelli quattro stagioni così da non pensarci più vai da sd auto a borgo san giovanni non solo te le cambiano ma se in garage non hai spazio tengono le tue in custodia da sd auto per la cura della tua auto a 360 gradi